Amato? Avete fatto del sesso violento? Tipo Yeah, yeah This is the Rex 91 Show Hey, my dear Siamo nuovamente qui su Black Mesa Per nome detto salvatissime Black Mesa Avventure Sì, lo dirò tutto il titolo Non solo Black Mesa Avventure Ma Black Mesa Avventure Yeah Perché è più figo, credo E avvicinerò il micro Oh, dannazione, che sta succedendo qui? Ok, ok Dimmi che la faccia è ancora lì Ti che c'è È ancora qui Dannazione Fammi sistemare Ok Fatto Sistemaggio completato E quindi ora andiamo Dobbiamo Maggiungere qui sotto Perfetto Prendiamo questo Che c'era qui? Studio Dannazione Che Dio sta facendo qui? Ti uccideremo tutti Rai Odonnazione Dove? Dove? Uccide questo Studio Comunque Perché Ogni tanto è troppo basso Ogni tanto è troppo Ok, ora Va bene L'audio Non riesco mai a sistemarlo Barilla Vai via Fammi aprire Tune Tune Posso anche prendere No, ovviamente Il cadavere Non lo posso prendere Perché? Per Oh Ok Quindi Questo qui Fammi Ah già giusto Perché su Half-Life C'è questo metodo Di saltare E accucciarsi Non l'ho mai Capito Mai lo capirò E Mai me ne fregherà qualcosa Che credo Comunque Wait Allora Dannazione Che diavolo Devo fare Ora Allora Wait Andiamo Qui Qui è impossibile Qui non posso Mio Sentissimo Dio Potrebbe Signore Spiegarvi Per favore Dove devo andare Barilla Dannazione Quindi Qui No Qui No Qui No Me Dannazissima Ce l'ho fatta Ho una bibita Sì Dannazione Sì Ce l'ho fatta Finalmente Siamo riusciti A prendere Una bibita Da un distributore Sì Posso anche Ordinare Dove Dove diavolo è Dove diavolo è Finito Posso anche Ordinare Un'altra Sì Dannazione Ora sono L'uomo più felice Di questo mondo Forse Oh Ovvio Che cazzo ho fatto A non vederlo Prima Vabbè Ok Non fate domande Ok Sono rincoglionito Basta No 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 Le facolti Don 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 Larry Don 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 Guarda Mi ha Zazzato Un'altra Volta Tutto Quanto Oh Ok Perfetto Che What the Hello Ok Ok Uccidi Larry Uccidi Larry Oh Sì Allora Se non mi sbaglio Pot Devo Oh Solo un mostro One shot One turret Kill Turret Una detta cosa Sembra più La sindrome Di Tourette Ok Se conoscete La sindrome Di Tourette Non mettete nulla Perché è una brutta Sindrome Quindi non c'è da scherzare Su queste cose Ok Non c'è da scherzare Assolutamente Sulle sindrome Oh Aspettami 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 Dannato Rincoglionito Ok Devo Cioè Fino a qui Solo per prendermi La vita Addizione Maledetti Esseri Terry Danna Cazzo Ma ho una mira Di merda Cioè Seriamente Ho una mira Che fa schifo Allora Non mi fido Di Oh Dannazione Caricamento Ok Oh Che dio Che dio Voleva successo Oh mio dio C'è un agente Ciao Su serio Hai sentito Delle urla Oh Dannazione Anche delle urla Oh Tipo queste Sì Immagino Siano tipo Questo Ok Sono Bastardo Allucinante Cercate Non finire In una Apocalisse Zome Insieme a me Ragazzi Crepereste tutti Vi ho avvertito In anticipo Quindi non Dite che Non vi avevo Avvertito Muori Degnato Escere Immondo Quindi Oh mio dio Un altro Blue screen Ma che dio Di computer Avete Oh Larry Non cercare Di saltarmi In testa Per scoparmi Le cellule Celebrelli Che già Stanno Poi uscendo In una maniera Allucinante Dal mio cervello In più Se ti ci metti Anche tu A Staccarmele Comodo Avete Fatto Del sesso Violento Tipo Yeah Yeah Ok Be' piccioncini Ottimo Sono Allucinantemente Belli Tipo Oh mio dio Vengo Arrivo 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 Oh Dagna Ma Vaffanio Ma io anche che sto vedendo pure ad aiutarvi Ma che cavolo di mostro Era quello Corpi che roteavano Oh grazie per Oh Dannazione Ok uno è andato Oh Potreste farla finita Maledetti Vortigod Dei miei Trappoggi Tuti Rurri Folla finita Sto parlando con Che diavolo di nome posso dare queste Peste immonde qui A Charlie No Charlie è troppo carino per Tuti Ti chiamerò Tuti Che è un nome di merda Quindi immagino che Vada bene per voi Tuti Folla finita Yeah Kill them All No Kill them All Kill them All All Ok Va Va Curo Non so l'inglese Ok Non so assolutamente l'inglese Ora piantiamola di parlare in inglese E tentiamo di conversare in italiano Ok E così che si fa Capito Ok Ah Andiamo a vedere Ah c'era Porta aperta Ok Perché mi fiondo così sempre nelle stanze Ok Può darsi che avrò una carriera negli svuot Ma C'è un questo modo di fare molto Sparato Oh mio dio Un'altra bibita Sì Questa volta Verde Mmm Oh Tutti Poi Oh Questa Induzione Se volevate le bibite Potevate anche chiedermele Maledette Oh Propulsione Materia Grigia 5 su 20 Ho un achievement In corso Dove cazzo Li trovo gli achievement Di Di Black Mesa Cioè ma che è una Presa per il Cuole Per il cuole Per il culo Non per il cuole Che cerco sempre Dannazione Di censurarmi da solo Fanno un culo La censura Censuratemi Questa Fantomati Oh Salve Tutto bene Ah Sì Può anche parlare Sono un essere Oì Oh Poi Oh Oh Sei muto Stai lavorando Una sorta di Aggeggio Per Poter parlare Senza le corde vocali È È bellissimo Ti aiuterò bro Oh mio Dio Sono riuscito a farlo parlare Sono Gesù Sono Gesù Hai capito Sono dannatamente Gesù Ho riparato le tue corde vocali E nessuno dovrà sapere Niente di questa cosa No perché sennò Poi mi mandano In una di quelle Come voglio andare Prima a controllare Una cosa Che diavolo C'era Che si poteva salire Da qualche parte Io mi ricordo Che si poteva salire Dicevo Tutti Dannazione Paglia Finita Oh Che diavolo Oh alle spalle Alle spalle Maledetti Larry Senior Larry Junior Dicevo Se scoprono Che I poteri Di Gesù Potrebbero mandarmi In una di quelle Comunità Per Mostri Geni Non mi vedrete mai Più Bro Quindi Vattenete il silenzio Si può far sapere Che io Dannazione Che diavolo c'è Qui Prendila Oh Ok Ok Di che State parlando Ok Puoi venire con noi Ok Sei un pesce sotto Muori allora Non hai Modo di vivere Io tromberò Tua moglie Che Mi Ok 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 Può Per favore Non vietarmi Ok Allora Non ho bisogno Di te Tignata Oh Dannazione Ora ci sono Dei cadaveri In giro Ok Intenterò Di nascondere I cadaveri Ok Questo Oh Dannazione Ok Direi che Qui va Benissimo Perfetto Nessuno Si accorgerà Di nulla Spero Oh Dannazione Potrei finire Nei casini Per questo Comunque Andiamo Procediamo Oh Era qui Era qui Era qui Era qui Certo che era Dannazione L'ho ritorno Notissimo Oh Dannazione Che rumore Che fai Mi fai Quasi pena Comunque Che ti avevo Stavo per dire Una cosa Tipo Ci vediamo Il prossimo Video Campai Saper Che Vosso Rex Non Votuno Sei ovvio Quindi Ci vediamo Il prossimo Video Campanato Perché Vosso Rex Non Votuno Ciao a tutti Bro